Ciao producer, velocissima intro prima di partire, quella che vedrete oggi è un estratto della guida completa su Studio One che ho fatto in collaborazione con Andrea Ciraulo, vi lascio il link in descrizione dove vi faccio vedere tutto quello che c'è da capire per iniziare a usare Studio One da come aprire un nuovo progetto, da come è tutta l'impostazione del software, dove trovate le varie cose eccetera se apprezzate questo tipo di contenuti vi invito a lasciare un like al video a seguirmi sul canale e anche sulla pagina Instagram che vi trovate tutto in descrizione oppure un canale Telegram, insomma ci sono varie cose che potete fare io vi ringrazio, non vi rubo altro tempo e a vola clip e come vedete nella finestra di editing si vanno ad aggiungere le impostazioni, questa finestrella di editing che abbiamo che è qua in alto, che ora vi voglio mostrare nello specifico e posso farlo avendo aggiunto delle tracce le prime elementi che vediamo sono una tipologia di selezione quindi abbiamo la freccettina semplice per poter selezionare e prendere le nostre clip e spostarle oppure allargarle, stringerle, come ci pare possiamo se no selezionare lo split tool, quindi quello che ci permette di andare ad esempio zoomando sulla traccia audio possiamo prendere una parte che ci interessa della traccia e dividerla e quindi ci creare a due clip torniamo con la freccetta e come vedete se io ne sposto una l'altra rimane ferma dov'è facciamo CTRL Z e annulliamo abbiamo poi la gomma, questo come è molto intuitivo, questo cliccando su una clip la cancella abbiamo poi la matita, il paint tool, questo ci serve principalmente sulle automazioni ci permette quindi di disegnare le automazioni in maniera specifica quindi io vi voglio far vedere, cliccando questa piccolissima icona qua in basso vi espande tutta la finestra che riguarda le automazioni dedicate a quella singola traccia con le automazioni di base che troviamo sempre sono il volume e il pan il pan è quello che riguarda lo spostamento destra e sinistra della nostra traccia il volume è il volume quindi se io prendo la nostra freccettina vado sull'automazione e in corrispettiva della linea io posso fare clic e mi crea un punto mi crea un altro e questo punto lo posso trascinare come potrete immaginare questa automazione ci permette di allargo un pochino ci permette di creare ad esempio un'entrata con il volume diciamo in maniera graduale se io do play e metto in solo questa traccia questa volta e l'altra è andata in muto come sentite forse ok e come vedete avete l'anteprima sulla traccia del mixer e del volume che sta andando e come vi dicevo con questo paint tool invece a differenza della freccettina classica possiamo disegnare una serie di linee o parabole o triangoli insomma come vedete io trascino e posso selezionare in base all'utilizzo che dobbiamo farlo e delle cose molto specifiche molto particolari oppure posso disegnare una sine wave insomma si può fare e questo qui dipende questa tipologia di ritmo dipende dal bar dalla quantizzazione che abbiamo impostato se io prendo un quarto come vedete me la crea più grande se premo uno uno me la crea ancora più grande quindi torniamo sui sedicesimi annulliamo tutte queste modifiche così per pulizia visiva infine abbiamo degli ultimi strumenti di editing dedicati all'ascolto della clip essenzialmente quindi con il mute tool noi possiamo mutare la nostra clip comodo magari se abbiamo delle piccole parti che non vogliamo far ascoltare abbiamo il band tool quindi possiamo inserire dei punti di bending che io clicco e come vedete posso trascinare la clip audio strecciandola in maniera molto precisa molto particolare questo è comodo sul sound design su dei lavori precisi magari di tempistiche dobbiamo spostare delle clip ma non dobbiamo modificarle interamente insomma possiamo anche qua sbizzarrirci e poi abbiamo un listen tool che ci permette cliccando cliccando in un punto di dare con il tasto sinistro il play nel punto dove che ci interessa come sentite continuando abbiamo queste altre sezioni che vediamo qui più centrali che ci permettono di eseguire in automatico alcune azioni allora abbiamo il punto interrogativo che essenzialmente ci dice cosa possiamo fare ad esempio andiamo sulla clip audio ci dice ci dà dei tips su cosa poter fare quindi se siamo all'inizio e magari appunto non conosciamo bene lo software è molto comodo da tenere attivo per capire cosa si può fare ad esempio se io premo il maiuscolo mi mostra tutte le azioni che posso fare in questo caso con il maiuscolo oppure con il ctrl se premo ctrl mi diminuisce il numero di azioni che posso fare ctrl alt mi fa vedere che posso insomma fare diverse azioni quindi togliamolo che al momento non ci serve poi abbiamo l'audio band in questo caso ci permette cliccando su una clip audio ad esempio per comodità divido questa clip audio in due mi seleziono solo una parte e lasciando questi valori inalterati faccio analyze in questo caso ad esempio come abbiamo visto prima con il band tool possiamo studio one va ad analizzare tutta la traccia audio e indica ad esempio sui transienti i punti che ci possono tornare comodi per spostare la nostra traccia oppure faccio ctrl z così annullo andiamo sull'altra che è strip silence che invece al contrario ci permette di in automatico anche qua di togliere tutti i silenzi quindi vedete sulla traccia audio ci sono dei punti vuoti queste zone qua oppure l'intro con strip silence non possiamo andarle a togliere in automatico possiamo impostare il tipo di silenzio che vogliamo impostare possiamo impostare un threshold quindi quanto deve essere basso il volume per poter essere incluso nel silenzio la lunghezza il pre roll e il post roll insomma anche qua ci possiamo spizzarire con tante modifiche tanti aggiustamenti molto precisi se io do apply in questo caso lasciando tutto di default come vedete mi va a togliere in maniera molto grossolana i vari silenzi faccio ctrl z come vedete mi toglie anche questa parte iniziale che non era un silenzio ma va bene è giusto per farvi un po' capire cosa può servire questo strumento andiamo poi su quantize quantize in questo caso ci serve per andare a mettere a tempo in griglia la nostra clip audio in maniera automatica se non vogliamo avere lo sbatti di prenderla a mano e spostarcela da noi che a volte può essere comodo a volte no anche qua possiamo mettere grid diamo apply giusto per capire cosa fa questo strumento e in questo caso non fa niente perché vediamo cosa può essere stato sbagliato forse dobbiamo fare l'analisi della griglia in questo modo trovo i transienti ecco come vedete se io faccio apply dopo aver fatto l'analisi con il band tool con scusate l'audio band se io zoomo un pochino si vede un pochino meglio se faccio ctrl z vedete che queste linee sono in un punto se io faccio apply queste linee si spostano e la traccia diventa rossa dove viene compressa troppo o stricciata troppo e diventa verde invece dove rimane inalterata e questo diciamo può essere un utilizzo creativo soprattutto se registrate molto se registrate batterie oppure comunque a livello musicale può essere molto utile ctrl z togliamo tutto togliamo la divisione ciao 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 ciao